la storia di una donna e un bambino uniti dalla speranza dove l'hai trovato mi è apparso venite a scoprire un'emozionante fiaba metropolitana che vi toccherà il cuore mamma mamma andremo a cercare tua madre fino a dove ti spingeresti per realizzare i sogni di un bambino sotto le stelle di parigi dal 25 novembre solo al cinema